Sono i numeri, è la classifica che contano, l'obiettivo raggiunto e questo dovevo aspettare la fine. Prima perché dovevo cercare di portare, come vi ho detto dall'inizio dell'anno, la squadra il più alto possibile, quindi non dovevamo nemmeno accontentarci di un obiettivo che l'estate non era così scontato. E l'ho capito, ve l'ho detto, quando ho girato per Milano i primi giorni di agosto, quando incontravo la gente per strada. Quindi credo che sia stato un anno molto positivo, o comunque positivo, dove abbiamo fatto tante cose buone. Devo ringraziare il mio staff e tutte le persone che mi sono state vicino nel mio lavoro, nel cercare di tirare fuori il massimo dalla rosa che mi è stata assegnata. Questo è sicurissimo anche perché è un contratto. E sono molto soddisfatto e contento della telefonata, per esempio, che è arrivata dopo che noi avevamo vinto con la Lazio e il giorno dopo ci sono state le altre partite che hanno sancito il nostro quinto posto. Il Presidente Torri mi ha chiamato, felice, di aver centrato questo obiettivo. del Presidente Moratti avete visto in campo alla festa di Savier. E questo è quello che mi ha dato ancora più contentezza, felicità, di aver lavorato bene per la società nella quale ho lavorato con intensità per tutto l'anno. Allora, sarebbe venuto a fare un discorso che non finisce mai, ma comunque guardate, io parlo con i numeri. Io vi faccio la domanda a voi. Quando si centra un obiettivo, come fa a essere considerato un anno non positivo? Il Presidente Torri mi ha chiamato il nostro obiettivo, come fa a essere considerato un obiettivo, come fa a essere considerato un obiettivo, come fa a essere considerato un obiettivo.